Buone notizie in arrivo per tutti coloro che dovranno attendere il bus a Fano perché dopo mesi di lavoro si è arrivati al riposizionamento delle prime pensiline sulle otto previste dal progetto comunale. La prima installazione è avvenuta in zona trave, un'operazione per la quale si è impegnato il consigliere comunale di Noi Città, Barbara Brunori, e che è stata preceduta dallo spostamento della fermata dalla zona dei cantieri dell'interquartiere ad un luogo più sicuro in prossimità della palestra trave. L'altra pensilina invece è stata installata in via di visione Carpazzi a Sant'Orso. In occasione di questo riposizionamento abbiamo tenuto conto anche di un altro tema che è molto importante, che è quello proprio del riuso e riutilizzo di beni che sono di tutta la città che attualmente, essendo appunto in disuso, erano stati oggetto di atti vandalici, quindi erano proprio anche inutilizzati se vogliamo e rischiavano di esserlo definitivamente. Quindi grazie anche alla collaborazione dell'assessorato, dell'ingegnere Santini e anche di Adribus, che è stato prezioso perché se non fosse stato per lui che insomma anche a livello economico investivano lo spostamento di queste pensiline e nella riqualificazione, non avremmo potuto farlo. L'installazione è stata portata a termine dopo aver accolto le segnalazioni di diverse famiglie fanesi. La pensilina di Sant'Orso era stata richiesta più volte dal comitato genitori. Finalmente dopo poca attesa rispetto a quello che mi aspettavo insomma siamo riusciti a ottenere la pensilina per i bambini perché la mattina effettivamente quando è verso le 7, un quarto, sette e mezza si radunano sempre quella ventina di bambini che devono prendere l'autobus per andare in centro e sai il tempo comincia a diventare un po' inclemente, sicuramente, anzi arriverà anche il peggio, perciò piuttosto che lasciarli sotto la pioggia, il vento e il freddo, una pensilina era la cosa più ricercata dai bambini. Nello stesso quartiere poi l'amministrazione comunale ha provveduto a creare due passaggi per diversamente abili per poter accedere da via Suncino al centro commerciale. Il signor Gennaro, volontario della protezione civile, la richiedeva da quasi sette anni. Dopo tanti anni il lavoro è stato fatto e ringrazio tutto il comune, il sindaco, gli assessori, eccetera, eccetera, perché veramente è stato fatto un buon lavoro, soltanto che dobbiamo dire che il senso civico qui, in questo posto, manca. Infatti, non so se si è notato, lì c'è una buca. Una macchina ci è venuta su con la ruota e quindi non va bene, sarebbe bene per completare l'opera metterci dei paletti, due, tre, così è un lavoro fatto veramente a opera d'arte.